Ci sono due lavori che riguardano proprio Scafoideos e Titanus e prove di lotta, non solo, ma parleremo anche di contenimento del ragnetto giallo della vite attraverso la pratica dell'immissione di fitoseidi, poi passeremo a parlare di tignoletta con una proposta di monitoraggio partecipativo, passeremo poi all'uva da tavola con la problematica dei tripidi, vedremo prove di lotta, ed infine una cociniglia importante che si sta diffondendo in diverse aree viticole, pseudococcus comstocki con prove di lotta. Ecco qua il primo lavoro, efficacia di piretro. Abbiamo parlato prima di piretro e vediamo alcune attività sperimentali che si sono state sviluppate proprio per verificare l'efficacia di piretro su diversi stadi larvali del vettore, in condizioni sperimentali diverse, con una singola o con una doppia applicazione. Sono state fatte prove sia su barbatelle in vaso, praticamente in condizioni controllate, inserendo in manicotti diversi stadi giovanili di scafoideus titanus, trattando con piretro con una spruzzetta, nelle ore serali, controllando il pH. Guardate, dal 2016 al 2021 gli autori hanno condotto ben otto prove su, vedete, diversi stadi. Una sintesi estrema dei risultati ottenuti, i dati delle singole prove naturalmente potete consultarli sugli atti delle giornate fitopatologiche, riguarda l'efficacia del piretro. Con un solo trattamento abbiamo un'efficacia del 70% sia su neanini di seconda e terza età che di quarta e quinta. Invece se si fanno due interventi, il secondo una settimana dal primo, l'efficacia aumenta sul 90% nei anni di seconda e terza età, 87% del quarta e quinta età. Gli autori insistono sulla scarsa persistenza del piretro, l'azione entro il primo giorno, una minore assoluta efficacia nelle applicazioni dal mattino, meglio preferire le momenti serali di applicazione. Invece in pieno campo. In pieno campo sono state svolte, vedete, ben quattro prove su Cultivraglera a conduzione biologica, dividendo il campo sperimentale in due parcelloni con quattro ripetizioni interne. I trattamenti sono stati eseguiti sempre con lo stesso prodotto a base di piretro, utilizzando gli atomizzatori aziendali. Ben quattro applicazioni, un primo trattamento l'ha ribattuta, un secondo trattamento l'ha ribattuta, tranne l'ultima prova che invece è stata fatta con solo due applicazioni. Ecco, per sintesi, il risultato di una sola prova, dove si mette in evidenza che dopo il primo trattamento, il secondo, il terzo e il quarto, l'efficacia aumenta. Si passa, vedete, dal 51 al 77, 88, 86%, questo nei confronti rispetto al testimone non trattato. Anche queste esperienze evidenziano una scarsa persistenza del piretro, l'importanza di seguire lo sviluppo degli stadi giovanili, abbiamo sentito prima l'importanza del monitoraggio, di studiare la fenologia di questo insetto vettore, fare molta attenzione ai fattori ambientali, agronomici, in modo particolare anche le temperature. Le conclusioni sono quelle piretro, ma con accorgimenti. Quindi, abbiamo già detto, seguire lo sviluppo della cicalina in relazione all'andamento delle temperature attraverso il monitoraggio, però gestire anche la chioma prima del trattamento, preparare una soluzione leggermente acida, trattare la sera o nelle ore più fresche della giornata e poi soprattutto utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguati per realizzare una piena bagnatura di tutta la vegetazione, l'abbiamo sentito prima, compresi i polloni, perché abbiamo capito che gli stadi giovanili si concentrano soprattutto sui polloni. Quindi, anche da questo punto di vista. Una provocazione per la discussione successiva. Ma quattro trattamenti ripetuti di piretro. Che impatto possono avere su artropodofauna utile nell'agroecosistema vigneto? Una seconda esperienza su scafoideo stitano è stata quella di valutare l'efficacia di azadiractina, tenendo conto che questa sostanza agisce come regolatore di crescita. Il protocollo delle prove sono state eseguite, guardate, quattro prove sperimentali, due nel 2020 e due nel 2021, in questo caso con blocchi randomizzati, quattro repliche. L'epoca di intervento è stata terza età prevalente, poi ripetuto il trattamento dopo una settimana circa, con trattamenti sempre nel tardo pomeriggio, controllando il pH della soluzione. Sono stati utilizzati diversi prodotti, come azadiractina, piretro, acetamipride, tofemprox, fluidifurone, e i risultati quali sono stati? Diversi risultati. La prima prova nel 2020, nel Pordenonese, vedete efficacia, come riguarda il numero di forme mobili per foglia, dopo 7, 14, 21 giorni dal primo trattamento, i prodotti si sono differenziati dal testimone statisticamente, con efficacia differenti, uno dall'altro. Comunque, nella prova invece eseguita nel Modenese, sempre nel 2020, anche in questo caso sono stati provati sempre Oikos, Epix, Trebon e Sivanto Prime, in questo caso con efficacia un po' superiore. E vado veloce, un'altra prova eseguita nel Veronese invece, dove oltre ai singoli prodotti, sono stati provati anche delle combinazioni tra Oikos e Asset 5, quindi tra diversi prodotti di origine biologica, diciamo, con delle differenze statisticamente non sempre significative e efficace, che sono variabili. E sono state provate anche dosaggi diversi per vedere se aumentando la dose poteva portare un'efficacia maggiore oppure meno, soprattutto da parte di azadiractina. Infine, abbiamo una quarta prova nel Modenese, anche in questo caso con impostazione simile alla prova precedente, con risultati similari. Diciamo che possiamo concludere sicuramente così. L'efficacia di azadiractina nei confronti di Scafoideus titanus è significativa, ma solo dopo la seconda applicazione. Inoltre, è risultato chiaro, azadiractina ha un'azione lenta, sicuramente più lenta dell'azione abbattente di piretro e degli insetticidi di sintesi. Inoltre, non è stata evidenziata un chiaro effetto dose, quindi non è che sia importante aumentare la dose rispetto a quella di etichetta perché non esiste una proporzionalità diretta diciamo tra aumento della dose e aumento di efficacia. Si conferma invece il posizionamento precoce sulle neanidi di terza età e poi la ribattuta a sette giorni e gli autori indicano che in conduzione biologica meglio l'impiego di azadiractina in combinazione con piretro. Anche qui possiamo farci una domanda ma la tolleranza zero per Scafoideus titanus è un obiettivo realistico in bio? Bene, però guardate la lotta obbligatoria Scafoideus titanus può portare anche a delle problematiche soprattutto quando si usano degli insetticidi che hanno degli effetti collaterali importanti nei confronti della acaro fauna nel vigneto. Infatti in molte aree viticole sono sorti dei problemi legati ai ragnetti in modo particolare al ragnetto giallo. In questo lavoro si è adottato il metodo di emissione e rilascio di fitoseidi per contenere le pullulazioni dell'acaro giallo coinvolgendo direttamente i viticoltori di un intero territorio. Ma cosa consiste la tecnica del rilascio aumentativo? Sono stati prelevati dei tralci di due o più anni che ospitano le femmine svernanti di fitoseidi da un vigneto donatore. Queste fascinette di tralci sono stati trasferiti nella prima decada di febbraio in vigneti accettori e questi tralci sono stati legati ai capofrutto già potati. Perché questo? Perché in primavera con l'aumento delle temperature le femmine fecondate escono dalla diapausa invernale e colonizzano direttamente la nuova vegetazione. L'esperienza è stata triennale dal 2019 al 2021 nella zona della Valdadige veronese. In tre vigneti sono stati distribuiti tre tralci per vite pari a dieci nodi per vite mentre in un quarto vigneto sono state testate dosi progressive di rilascio 4, 6, scusate 6, 4, 2 tralci per vite e la parcella senza l'emissione. Cosa è stato immesso? Le popolazioni di fitoseidi immesse erano popolazioni pure di Campimodromus aberrans una delle specie più importanti nel vigneto con una densità di popolazione sui tralci diversificata perché nel 2019 e nel 2021 0,3 femmine per nodo nel 2020 più del doppio 0,7. i risultati i risultati sono stati particolarmente interessanti perché guardate con le linee verdi abbiamo l'andamento delle popolazioni di fitoseidi linea continua nella parcella immessa linea tratteggiata nella parcella senza emissione invece in giallo abbiamo l'andamento delle popolazioni di ragneto giallo risulta evidente anche statisticamente significativi sono i dati che la densità di popolazione dei fitoseidi nel vigneto dove è stata fatta l'emissione è decisamente più importante così come è stato decisamente importante la capacità di controllo da parte di questi fitoseidi sul ragneto giallo sono state fatte anche tutta una serie di indagini sulle identificazioni delle specie di fitoseidi e come vedete in questi istogrammi nelle parcelle immesse per tutti i tre anni la specie assolutamente predominante è proprio Campimodromus aberrans quella immessa mentre nelle parcelle non immesse abbiamo popolazione mista oltre a aberrans abbiamo anche Iseus Finlandicus Ambliseus Andersonis e Paraseus Talbi e poi e con dosi progressive di rilascio come è andata a finire la storia la storia è stata particolarmente interessante perché guardate il ragnetto giallo la presenza è proporzionale al rilascio di fitoseidi con delle differenze statisticamente significative quindi con l'emissione di fitoseidi l'efficacia del contenimento è stata proprio proporzionale al numero di tralci introdotti possiamo concludere che l'introduzione dell'acaro fitoseide predatore Campimodromus aberrans ha avuto successo con il rilascio il contenimento naturale è stato efficace mentre nelle parcelle senza emissione lo sviluppo di ragnetto giallo ha provocato sintomi fogliari tanto da compromettere l'attività fotosintetica in alcuni vigneti l'efficacia del contenimento è risultata anche proporzionale alla densità dei rilasci quindi Campimodromus aberra si conferma è una delle specie un ottimo candidato per i rilasci in quanto specie competitiva nei confronti delle altre specie di fitoseidi è in grado di colonizzare rapidamente i vigneti e poi c'è stato anche un aspetto positivo che è stato quello di coinvolgere i viticoltori di un intero distretto nella pratica dell'emissione quindi per loro è stata fatta un'esperienza diretta della potenzialità di questo metodo di controllo biologico e anche qui una provocazione per la prossima discussione ma che fine fanno questi fitoseidi una volta immessi nei vigneti a seguito di trattamenti insetticidi previsti sempre dalla famosa lotta obbligatoria Ascafoideus titanus ecco qua e adesso cambiamo cambiamo argomento perché parliamo di tignoletta della vita in questo caso Baldacchino ed altri autori parlano di un monitoraggio partecipativo attraverso il sistema citizen science infatti gli obiettivi era quello di indagare attraverso un questionario sulle strategie di difesa adottate per la tignoletta in Basilicata e mettere a punto una piattaforma web GIS per la condivisione dei dati georeferenziati l'indagine condotta nel 2021 ha interessato un numero direi piuttosto contenuto di aziende otto aziende tra privati e associazioni dove è stato fornito questo questionario e poi è stata realizzata questa piattaforma per il monitoraggio partecipativo alla tignoletta della vite diciamo l'indagine ha messo in evidenza che i vigneti interessati circa il 50% fanno una difesa integrata obbligatoria un 25% integrata volontaria 25% bio che i prodotti impiegati nella lotta alla tignoletta sono prodotti chimici spesso anche integrati con l'applicazione della tecnica della confusione sessuale oppure in certi casi anche con insetticidi di origine biologica qui si evidenzia anche una certa evoluzione perché con la perdita di esteri fosforici che avevano appunto una azione più ampia ampio spettro d'azione bisogna un attimo ritararsi con questa cosa e per quanto riguarda la decisione sul posizionamento i timing di queste applicazioni l'esperienza personale è importante così come l'indicazione dei tecnici quasi tutte diciamo le aziende che sono state interessate da questa indagine hanno invece usato le trappole sessuali per il monitoraggio dei voli altre hanno fatto anche uso del campionamento sulle uova sui grappoli e mentre le singole aziende non hanno utilizzato i modelli previsionali ma invece ho saputo che i modelli previsionali sono stati utilizzati per chi poi ha redatto i bollettini tecnici di difesa nell'area quindi possiamo dire ottima questa idea della condivisione dei dati però possiamo dire anche che i momenti di applicazione non si possono basare solo sul monitoraggio dei voli perché in certi anni per esempio le precipitazioni portano a sfasare il trattamento rispetto ai voli anche di 5-6 giorni quindi i modelli restano sempre un metodo importante da integrare ma soprattutto sono i campionamenti in campo che sono determinanti per andare a vedere in parcelle non trattate non confuse qual è l'ovideposizione lo sviluppo embrionale e la nasta delle larve quindi ma non si potrebbe pensare di integrare e condividere i dati del monitoraggio sui voli o anche i dati degli altri osservazioni in campo sempre utilizzando il principio della citizen science e adesso passiamo invece all'uva da tavola perché nell'uva da tavola c'è un problema importante che è quello dei tripidi nel periodo della fioritura e qui si voleva verificare l'efficacia di EPIC OICOS e Treboni confronti dei tripidi da tavola perché abbiamo perso un strumento molto importante uno standard di riferimento per l'efficacia la crinatrina in quanto la scadenza commerciale è il 30 di questo mese e la scadenza dell'utilizzo è fine giugno dell'anno prossimo quindi dobbiamo diciamo prepararsi per sostituire questa sostanza attiva sono state fatte quattro prove tre nel 2020 una nel 2021 sempre vite da tavola levata a tendone con diverse sostanze qui per andare veloci abbiamo una prima prova nel 2020 trattamenti nella provincia di Bari su Franchinella Occidentalis tre applicazioni sono state fatte vedete con Treboni Epic e Maverick impiegando anche di dosaggi non proprio da etichetta una seconda prova sempre nel 2020 sempre su Franchinella Occidentalis con cinque trattamenti a sequenza i risultati sono stati comunque sempre efficaci tutti i prodotti hanno avuto una efficacia sicuramente significativa rispetto al testimone non trattato e poi sempre su Franchinella è stata fatta un'altra prova nel 2021 in questo caso però impiegando dei prodotti singoli come vedete ma poi anche delle combinazioni delle combinazioni tra insetticidi di origine naturale diciamo e di sintesi per vedere come potrebbe essere la risoluzione di questo problema i risultati sono stati sicuramente di interesse non tutti i prodotti si sono differenziati statisticamente dal testimone non trattato quindi vedete le percentuali di efficacia decisamente variabili e infine è stata fatta un'ultima prova ma non su Franchinella ma su Drepanotis Reuteri che è un tipico tripide legato alla vite in questo caso è stata fatta una sola applicazione qui vedete i risultati dopo 3, 7, 14 giorni dall'applicazione vedete la differenza di efficacia dei prodotti in prova e si evidenzia l'attività di EPIC sia al dosaggio più basso che a quello più elevato come possiamo concludere possiamo dire che acetamiprid in revisione nel 2033 neonicotinoide azione di contatto azione di ingestione sistemico posizionamento importante all'inizio delle strategie di difesa azadi grattina in revisione nel 2024 anche in questo caso si conferma ha un'azione più lenta e richiede dei trattamenti ripetuti però è utilizzabile in agricoltura biologica e in strategie antiresistenza infine abbiamo etofenprox in revisione nel 2022 piretroide che ha un meccanismo d'azione differente dei precedenti perché è un modulatore del canale del sodio quindi potrebbe essere dicono gli autori inserito nelle strategie di difesa anche qui possiamo farci una domanda per l'eventuale discussione quindi finita l'era crinatrina come meglio possiamo impostare le strategie di difesa con le armi a disposizione è strategico integrare inseticidi di sintesi con sostanze di origine naturale ed infine infine passiamo a una cocciniglia che ci sta dando dei problemi in varie aree viticole non solo in Emilia Romagna in particolar modo nel modenese ma anche in Veneto e parliamo di pseudococcus con stocchi una specie sempre pseudococide vedete si differenzia da il più generico planococcus ficus perché presenta due lunghi raggi cerosi anali le codine cosiddette che già una prima osservazione in campo ci aiutano a differenziarlo rispetto a planococcus ficus in questo caso l'obiettivo era quello di valutare sul foxaflor recentemente autorizzato anche su vite nei confronti di pseudococcus con stocchi qui sono stati provati in quattro prove nel triennio 2019-21 diverse sostanze come vedete e il timing di applicazione è stata la migrazione delle nanidi di seconda generazione una prima prova eseguita nel 2019 nel Reggiano avete visto vedete che alcuni prodotti si differenziano dal testimone altri meno nella seconda prova comunque dei interessanti risultati dove ecco questo volevo evidenziare closer associato a degli adiuvanti non danno dei risultati di efficacia superiore ecco perché uno degli obiettivi era anche questa una terza prova vedete dove si era visto in questo caso il numero di individui per grappoli perché su foglia la percentuale è stata più contenuta se volete andare a vedere percentuali di efficacia su foglie grappoli eccetera li trovate naturalmente negli atti delle giornate fitopatologiche invece nella quarta prova il pseudococcus comstocki era la specie predominante però ce n'era anche un'altra il pseudococcus calciolarie che in certi casi può essere ancora presente concludiamo dicendo che un'unica applicazione di closer nel momento della migrazione negli anni di seconda generazione ha dato risultati di efficacia equivalenti e talora superiore ai prodotti di riferimento l'aggiunta degli adiuvanti non è sempre invece incrementato l'efficacia qui bisogna evidenziare una problematica perché come sapete per sul Foxaflor è richiesto un adeguamento di etichetta per l'impiego in pieno campo cioè la vendita è ammessa fino al 19 novembre del 2022 e l'impiego in pieno campo è ammesso fino al 19 maggio del 2023 forse possiamo anche trovare qualcuno in sala che ci può aiutare nella discussione che prospettive ci sono per la riammissione di una sostanza appena inserita per la difesa della vite concludiamo rapidamente molti insetticidi standard del riferimento per efficacia come avete visto sono stati revocati scarse sono le prospettive di nuove sostanze attive disponibili ci si mettono anche i cambiamenti climatici che influenzano i cicli biologici che influenzano la diffusione di specie che in alcune aree della nostra penisola non c'erano adesso stanno facendo danni importanti diventa perciò necessario mettere a punto strategie che tengano conto di vari aspetti per esempio varie combinazioni di sostanze a diverso meccanismo d'azione che tengano conto dei timing di applicazioni che siano corretti in base alle fasi di sviluppo dei singoli fitofagi che tengano conto di volumi d'acqua dei pH delle soluzioni abbiamo visto in particolare per Piretro quindi bisogna parlare di difesa ragionata che richiede sempre più precisi monitoraggi che siano puntuali sui singoli fitofagi per i territori omogeni infine possiamo dire che la condivisione di dati sulle fasi di sviluppo di insetti chiavi attraverso piattaforme informatiche ci può sicuramente aiutare per una difesa consapevole nel corso della stagione grazie a tutti Grazie a tutti.